Ieri la giornata mondiale dell'acqua voluta dall'ONU, l'associazione che da ormai 25 anni mira la salvaguardia di questo bene così prezioso e spesso però sprecato. La dispersione idrica in Molise, nello specifico, presenta dei dati allarmanti perché supera il 60% del servizio. Non si può non parlarne e a maggior ragione oggi se si considera che ieri è stata la giornata mondiale dell'acqua. In Molise costa poco ma se ne perde molta. Se nel 2017 una famiglia molisana ha speso in media 143 euro per la bolletta idrica rispetto ai 400 euro della media nazionale, il Molise vanta il poco invidiabile primato di regione in cui è più alta la dispersione, con un dato che a Campobasso sfiora il 68%. Spesso poi in alcune zone la fornitura d'acqua non è nemmeno costante. Il dato medio della dispersione in Italia è di circa il 40%, ossia il doppio di quello europeo. Problemi legati sicuramente alle tubature che necessitano di riparazioni. Il 60% degli acquedotti italiani risulta avere unità superiore a 30 anni e un quarto ne ha più di 50. Dati resi noti in occasione della giornata mondiale dell'acqua voluta dall'ONU, che da 25 anni mira a evidenziare il valore di una risorsa così importante, spesso usata male e spesso sprecata. Per Molise Acque, che gestisce gran parte della rete idrica regionale, sulle strutture di grande adduzione la perdita stimata è del 5%. Per tenere sotto controllo le ramificazioni periferiche si utilizzano misuratori di portata e di pressione. Da Molise Acque fanno sapere che l'ente sta implementando un sistema di telecontrollo sulle reti regionali che permette di monitorare la situazione in tempo reale, captando subito eventuali problemi, disfunzioni o guasti e che consentono quindi di intervenire in maniera rapida. Ed è forse proprio la difficoltà di avere costantemente acqua dal rubinetto tra le cause del consumo cospicuo di acqua minerale. Con 206 litri pro capite, l'Italia è il primo posto in Europa per il consumo di acqua in bottiglia. Il recente dossier di Lega Ambiente evidenzia come il giro d'affari oscilli tra i 7 e i 10 miliardi, ma le regioni, si legge nel dossier, incamerano appena lo 0,6% del fatturato delle aziende imbottigliatrici. In Molise, secondo i dati di Lega Ambiente, sono sei le concessioni attive per le quali si pagano tre tipi diversi di canone. Gli ambientalisti propongono di aumentare il canone, per ottenere introiti maggiori, dare a investire in politiche di tutela e gestione della risorsa idrica e di miglioramento del servizio idrico integrato.